E' stata prorogata al 30 settembre la scadenza della Corte dei Conti per presentare il nuovo piano di riequilibrio. Il Vice Sindaco e Assessore del Comune di Giarre Salvo Vitale è già al lavoro insieme agli uffici finanziari per completare la rimodulazione del piano, per aggiornarlo in base ai residui attivi emersi e per sparmarlo su 30 anni invece che su 10, così come consentono le nuove normative. Che la situazione finanziaria dell'ente sia drammatica lo testimonia un dato preciso. Il Consiglio Comunale, che si andrà ad insediare nei prossimi giorni, dovrà approvare il bilancio di previsione 2015. E' come chiedere un preventivo per un lavoro già eseguito o un servizio già reso. Nemmeno Samuel Beckett poteva arrivare a tanto. E in questo primissimo scorcio di Eradanna c'è ancora da risolvere il nodo della Presidenza del Consiglio. Il duello tra i Franceschi, Longo e Cardillo non è ancora cominciato, ma da un momento all'altro potrebbe essere atteso lo start.